Ci sono qualità innate che non ti abbandonano mai, anche nelle stagioni più balorde, e dove vedi che tutto rema contro il cuore, l'orgoglio, soprattutto la capacità di regalare emozioni, alla fine vengono fuori anche in un anno di amarezze. La svolta capita così al Sette Colli di Roma, un tempo non eccezionale per Luca Marin, ma sufficiente a staccare il biglietto per Londra. Per il vittoriese Scuola Nanino-Terranova, il peso di un successo arrivato forse troppo presto si è rivelato un compagno difficile con cui convivere, e senza il colpo di Reni e l'orgoglio della scorsa settimana a Roma, probabilmente Luca avrebbe visto Londra solo in cartolina. E un nuovo Luca Marin ci si chiede quello che si è presto a vivere i giochi londinesi, nessuno ad oggi può dirlo, anche se sembra rinato nel morale e si sente più sicuro quando infuria la battaglia. Un nuovo Marin comunque che tutti i tifosi vorrebbero ritrovare, specie quelle di Vittoria, speciali, e lui lo sa, perché non l'hanno mai dimenticato, neanche quando notava, ma restava indietro, sempre più indietro.